L'indagine biennale di Confindustria Piemonte e le imprese piemontesi nel panorama globale realizzata in collaborazione con Sace e Unio Camere Piemonte su un campione di 610 aziende conferma che l'export piemontese fa molto bene, tanto bene da diventare un traino per l'intera economia regionale. Una notizia che merita di essere sottolineata perché nonostante il quadro generale della produzione sia assai incerto e per certi aspetti addirittura critico dato lo scenario geopolitico e geoeconomico, da tre anni il 91% delle aziende regionali ha mantenuto o aumentato il proprio fatturato all'estero, in particolare dal 2020 più della metà, il 55% delle imprese piemontesi ha dichiarato che la propria quota di fatturato estero è rimasta stabile, il 36% ha dichiarato che è aumentata e solo il 9% denuncia un calo. Inoltre è da segnalare che il 38% di queste aziende ha rapporti commerciali con almeno 10 paesi e se il Piemonte è al quarto posto per le esportazioni, il buon annonamento delle vendite all'estero è anche una vocazione nazionale. Infatti nonostante la frenata del commercio globale, anche nel 2024 l'export resterà in Italia la prima voce al supporto del prodotto interno lordo, confermandoci come sesto paese esportatore nel mondo. Marco Gai, presidente di Confindustria Piemonte, Alessandro Battaglia, delegato dell'internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, Barbara Beltrema e Giacomello, vice presidente, hanno dichiarato che il Piemonte è la quarta regione italiana per esportazioni. Si tratta di un risultato che si costruisce giorno dopo giorno partendo dalle nostre scuole e università per la formazione e prosegue poi nelle aziende dove innovazione e investimenti sono continui e arriva in tutto il mondo e nelle più importanti filiere globali. Per affiancare e sviluppare questo percorso nel 2020 abbiamo istituito la commissione internazionalizzazione e attrazione e investimenti composta da imprenditori nominati da ciascuna delle otto territoriali piemontesi di Confindustria.